E' solo in un camerino con tre bellissime fanciulle. Allora, Floriana Monici, ciao! Buonasera a tutti, come va? Buonasera, sto preparando? Vi sto preparando, come sempre, in parruccata. I pattini dove le hai lasciate? I pattini sono giù, in palco, pronti, con i calzini dentro. Le mie parrucche tre sono giù, quindi io... Floriana fa due personaggi che sono una cosa strepitosa. Che io veramente... Anch'io adoro. Ho riso tantissimo, sei pazzesca. Meno male, anche il rol sempre. E' Loredana Fadda, una mamma giovanissima, bellissima. No, scherzo. No, e beh, a me piacciono le mamme giovani, grintose. Poi sul palco, con Riccardo, state bene insieme. Dice, è soprattutto l'incarnato che ci accomuna. Il padre era svedese. Perché il padre era svedese, quindi lui ha preso dal padre. Va bene, me ne sono fatta una ragione. Va bene, va bene. E' proprio per questo che ci siamo lasciati, con questo qui. E' infatti. Per dire, senti, il mio figlio non l'ha preso niente da me, ciao. E ciao, ecco. Mi ho preso baracchio e burattini, me ne sono andata dal mio fratello. Ma chi me l'ha fatto fa? Ma infatti. Perché voglio dire che ci ho guadagnato. Va bene, ma poi va tutto bene. Però poi va tutto bene. Poi si sistema. E qui abbiamo un'altra mamma, Bronella Platania. Ciao. Ciao. Sto facendo una diminuzione, mi sto togliendo il trucco. E poi ci mi vede bene il personaggio. Già piangendo? Oh mio Dio. Stai già piangendo? Io piango, ragazzi. Eh, vabbè. Le mamme sono le mamme. Mi capirà qualcuno, mi si aprono tutte le cataratte. Le mamme sono le mamme. Le mamme sono le mamme. C'è poco da fare. Le mamme sono tutte belle, le mamme del mondo, ma queste di futuro sono proprio... Va veramente, va veramente. Io vi lascio al vostro trucco e parrucco, perché fra poco si comincia. Ci vieni a vedere? Eh certo, eh. Ecco. Jack Cranston. Eh, bello tosto. Eh, un ragazzaccio, un ragazzaccio. Un ragazzaccio veramente. Un ragazzaccio del paese, però. Sto giro faccio proprio il cattivo. Cattivo senza mezzi termini, eh. A te riesce bene, però. Grazie, grazie. Roberto? Eccoci qua. Io sono il coach Roger Dunbar, che è il braccio destro cattivo del reverendo. Tutti cattivi siete, non ho capito. Sì, questo è il cammino dei cattivi. Sì, questo è il cammino dei cattivi. Esatto. E poi faccio una parte un pochino più da cowboy, il texano, quindi il proprietario del locale, il barbecue. E all'inizio del secondo atto ti vediamo. Opening del secondo atto. Arrivati, mostrati, il cappello, e allora... Al tavolino, ti stai schiacciando una pelle. Esattamente, esattamente. Sì, aspetta che inizi la serata. Sì, aspetta che il mio locale apra e io comincio la serata. Esatto. Dunque, fate un invito al pubblico a venire a vedere Food to Lose. Perché no? Perché ci sia assolutamente, dovete venire, ma anche perché, insomma. Il film è stato un successone. Esattamente. Perché non vedere anche dal vivo la cosa? Perché no? Fino a 31 dicembre, teatro nazionale. Vi aspetta, ci sentiamo. Ciao. Ciao.